Il campione sembra sempre più scatenato. Si è gettato all'attacco sferrando dei destri micidiali. La sua incredibile potenza ha piegato la volontà dello sfidante in queste ultime fasi dell'incontro. Ma ecco che il campione di parte all'occasione. Cazzo che bestia sto negrone. Come hai detto chi si chiama? Carcius Clay. Oh, quello ha vinto la medaglia d'oro a Roma. Madonna, com'è tosto. Dira certi spadafiloni, hai visto? Felicino, vai, vieni a ballare. Vai cagare, vai. Ma quanto dura questa strazio? Questa strazio, senti, mi scassa micchia. Quando c'è lo sport in televisione mi devi dare il break, se no, Aria, te ne torni sulle bianche scogliere di Dover. Dai, vai fuori dalle balle, che non riesco a concentrarmi, non riesco. Sta qua mi dà lo spinimento. Come ho visto il cartello forte dei marmi, già non la potevo più vedere, mi faceva già calare la cataratta. Ci protegge, non ridete, che non sta bene, ce la susano e poi non ho piacere, non ho piacere. Stai.